Oh, fa prendere anche verso l'alto, c'hai proprio una scelta che ti serve Nooo, vabbè Bellissima Praticamente, sì però, ho una domanda Un po' scomoda Come scendi? Come scendi a quel punto? Spera, te lo ricordi questo laboratorio? Certo che me lo ricordo Oggi ci hanno invitato Ok Per un evento davvero, davvero speciale Ci hanno invitato la famiglia degli incredibili Per parlare con loro e per poter diventare incredibili quanto loro Ma davvero? Ha detto a loro, poi non so se sarà vero Non so se davvero ci daranno i loro poteri Se ci insegneranno come essere incredibili Eh, quello è difficile Non ne ho bene idea Però mi hanno contattato Mi hanno detto venite qua nel laboratorio Vi spieghiamo tutto Quindi noi siamo qua nel laboratorio Ma fantastica, andiamo Lo so, poi Stef è magnifico Quindi magnifico, incredibile Non è che sia molto diverso No, Stef Allora, se tu sei magnifico non puoi essere incredibile Questa cosa è abbastanza ovvia, sì Ma scusami Secondo me tu non hai la stoffa, Stef Sei un po' pifone Cioè, l'abbiamo visto in tutti questi anni di Minecraft Sei sempre quello che si tiene indietro Oh, no, no, aspetta 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 Fammi parlare Ok Lo decidono loro Se io la stoffa Non lo decidi tu Tu chi sei per me Eh? Chi sei? Tu chi sei? Tu chi sei? Tu chi sei? Sei incredibile Non ti vedo incredibile E' lo sporco pirata Ecco cosa sei Andiamo via Guarda che tu forno è adesso Adesso mettono i pirati Quindi non sono più sporco Sarò il re Vieni con me Vieni Guarda, guarda Guardate quanto poco incredibile Manco con le porte Perché troppo forte nelle braccia, Stef E' quello il problema Ma quando? Con quelle bracina lì Fanno schifo Allora C'è sto tizio Che credo sia il padre Signore incredibile Ok Tu sei il nome? Mister Incredible E' il nome vero? Eh, non mi ricordo No, ecco Quindi non sei incredibile neanche tu Chi ci parla? Io Perché? Perché sono più incredibile di te Più fantastica Va bene Vado io? Sì, sì Vado io? Sì, sì Allontanati, Stef Via, via, via Secondo me non sei in grado Perché la sto pure ascoltando Che vuoi? E non devi neanche ascoltare le cose che mi dirà Capito? Io poi te le ripeto Ha invitato entrambi Non puoi decidere queste cose dal posto suo Sì, ma tu secondo me i poteri non te li meriti, Stef Non deciderlo a lui Cioè hai sempre dato prova Di scarso coraggio Cioè guarda che loro sono molto coraggiosi, eh Allora Cioè allora ti dico Non ho ancora visto il secondo film Ok Poi 80 anni fa ho visto il loro primo film E vabbè anche io E mi è piaciuto un botto, capito? E vabbè anche a tutti è piaciuto quel film A te no Sì A lui non è piaciuto il tuo film Non è vero Quindi ok, parli solo con me A posto, Stef Ci stai parlando? Vado, sì Leggo tutto Vai Hai dato i libri? Sì, mi dai libri In modo incredibile, così veloce Tu non senti Però devi leggere No? Ma tu non senti quello che dice E così io potrò dirti solo quello che lui vuole che tu senti Ah Ok Ok Non rompere, ti leggo il libro, ok? Sei pronto? Sì Ciao e benvenuti nella nostra struttura segreta In cui io stesso e gli altri incredibili creiamo la nostra armatura Ok Il primo passo per creare l'armatura degli incredibili È andare qui a fianco ed estrarre alcuni degli incredible ore Quindi penso i minerali che abbiamo qui a fianco, Stef Troverete dei picconi di diamante nell'accesso e tornate qui non appena avrete finito Vuoi fargli una domanda? Eh, non lo so, è un libro, Stef Eh vabbè, tanto c'hai di fronte Io non posso parlarci, ho deciso tu Allora, dimmela a me Ok Ma se i blocchi sono incredibili I picconi sono incredibili? Perché altrimenti come distruggi l'incredibile No, ha detto che sono di diamante, vanno bene quelli Ok Va bene Allora, quindi sono qua, giusto? Sì, ecco, uno e due Ok E dobbiamo spaccare questi Ok, andiamo Eh, non sembra nulla difficile Incredible ore Eh, si chiama davvero incredible, va bene Quanti ce ne servono a fare? Eh, non lo so Vabbè, sembrano belli, quindi ne prendo un bel po' Quanti ne hai presi? 16 21 Ok Allora, ok, seconda parte, giusto? Allora, vado a parlarci ovviamente per il secondo libro che infatti mi ha appena dato Eh, vado? Vai, vai, vai Allora, perfetto Abbiamo detto che abbiamo raccolto tutto, l'ha anche visto Adesso andate a vedere nella prossima chest Ok Con la vostra incredible essence Ma non abbiamo l'incredible essence C'è qualcosa che non va Forse devo fare tipo così? No, vabbè Proviamo a metterli nella crafting table nel cavolo Ok Nel caso Nel cavolo Allora Con la vostra incredible essence potrete creare l'armatura degli incredibili Fate attenzione, però non indossatela qui dentro Potreste rompere qualcosa nel nostro laboratorio e testatela lontano da qui Tornatevi, mostrerò come si crea l'armatura anche di Frozone Che io so che il loro alleato Ok Un alleato della famiglia dell'incredibile, un loro amico Spero si pronunci così Perché ti ripeto Ok E andiamo a vedere Ma sono un po' confuso Perché Allora Allora è anche qua Ah, ok, era qua Fede, allora non ha capito Ma scusami Nati Ma questa perché ci parla? Cioè non capisce niente Ma che serve Fede? Adesso l'ho presa Ma scusami perché Allora ci ha fatto minare Se Pensavo avessi preso tutto tu Se poi dovevamo semplicemente prendere La La essence da qui dentro Perché ci voleva insegnare Non so neanche poi come ci si procura questa essenza Ci voleva insegnare che si procura Delle Delle Ah, guarda Steph In questa cesta ci fa anche vedere come le dobbiamo posizionare nella crafting table Vedi la cesta, il delmetto Vabbè Fede, ma serve solo a te che non sai craftare su Minecraft Esatto Ok Era molto logico Io sono un supereroe Non devo sapere craftare Ma sono davvero Oh mio Dio Ok Ma non mi basterà mai tutta questa essenza Mi ho preso di più io del dovuto Ecco qua Quindi dammi quella che ti avanza Maledetto Ok Solo se dici che sono incredibile Non sei incredibile E allora non te la darò mai Dai, Steph Rubo l'altra, non mi interessa Qua ci sono altre cose Allora, i gambali Dai, dammi quella che avanza L'ho buttata Grazie Grazie Dovevo fare i gambali È lungo qui, è tutto lungo Allora diceva di non indossarla, vero? No, di non indossarla qui dentro Ok, l'ho indossata per un attimo Perché l'ho preso dalla foga Ok, andiamo fuori Andiamo fuori Si ha detto di non indossarla qui dentro Perché è troppo potente Ok, sembra una figata Sembra davvero bella Ok, andiamo Allora usciamo Dimmi che non sono odiosa E ste porte Allora Davvero non riesco a uscire Aiutami Ok Potevi aprirmela dall'altra parte Maledetto Ok Vai Perfetto Allora, siamo pronti? Sì, ma ci allontaniamo un attimo No, basta qui Perché ho gli occhiali sempre storti, Steph? Guarda Io sono giusto, vero? Sì Io sono sempre giusto Perché io ho gli occhiali E sono feri e storpia Ho gli occhiali troppo grandi Ok Sono molto triste Ci avrebbe dovuto avvisare Che sarebbe crashato tutto Se ne siano provata Cioè, ok che è forte Come armatura Ma non pensavo che è tanto È troppo per questo mondo, Steph È presente che nei film Nei supereroi Nei telefilm C'è sempre, diciamo I viaggi nel tempo Nelle dimensioni Ecco, noi ormai siamo in un'altra dimensione Perché quella dimensione L'abbiamo fatta esplodere Mettendo l'armatura Esatto Quindi questa volta Ferri, ti prego Di non fare il terrore Ma non dipende da me Cioè, è lui che ci ha fatto provare Ma te dici che sei incredibile Quindi Andiamo avanti Incredibile responsabilità Vai, cara Certo, vai Allora Ora dovete togliere La vostra armatura dell'incredibile E creare un nuovo set Mettendo una palla di neve Accanto a ogni pezzo E così avrete L'armatura di Frozone Andate subito a provare Ok Allora l'armatura L'avevamo già tolta Una volta che avrete finito Vi mostrerò L'ultimo passaggio Che vi permetterà Di tenere L'incredibile power E finalmente Non è che ci dobbiamo Solo vestire qua Con tutine Qua vogliamo I superpoteri Accidenti Ne abbiamo avuto fin troppi Fere Io non ho più l'armatura Ce n'è solo una L'ho proprio bruciata Sì Maledetto Dammi un'altra armatura Eh Steph Pure io l'ho bruciata Perché abbiamo fatto crescere Vabbè Fere La proverò soltanto io Vai Tanto non è andata molto bene La prima Sinceramente Preferirei non avercela Provo? Vai Allora Non schiacciare nessun tasto Mettitele Basta perché non voglio crescere di nuovo Guarda Ti sta Hai visto? Ma ghiaccia il pavimento? Sembra di sì Cammina Ghiaccia il pavimento Beh sì In effetti è il suo potere Quindi È un nuovo ghiaccio Quindi Allora Mi sembra un potere pericoloso Quindi facciamo che lo riappoggio qua Mi sposto da lì Ed è tutto a posto Andiamo a parlarci Per l'ultimo potere Ok signori incredible Allora Qua è stato tutto bello La vostra armatura è bella Quella di Frozen Però c'è da dire Quella del vostro redatto Un po' più bella Ecco il ghiaccio che fa lì È un po' più bella Ok Cioè perlomeno qui su Minecraft Secondo me è fatta meglio Ok Ok Andiamo a leggere l'ultimo passaggio Vai Andate fino in fondo alla stanza Guardate nella cesta E raccogliete tutti i nostri poteri Basta utilizzarli come oggetti normali Per poter avere i poteri uguali ai nostri Buona fortuna Utilizzateli con saggezza Ok 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 Sei già lì Steph Facciamo esplodere tutto vero? Quale cesta hai preso? Penso di sì Eh vabbè Eh vabbè Quanti sono? Power remover Ok Di questi ne avevamo bisogno tanti Ice power E lanciamo palle di neve? Sì è molto deludente Ah Questo Ma che? Flexibility Che cos'è? What? Cosa mi dà? Ah speed jump boost Aspetta un attimo Che vuoi fare? No non mi colpire Steph Mi hai già fatto Mi stai distruggendo Fai malissimo Vero? Che potere è? La strength Mi hai fatto crashare Steph No Sì No Allora continua a provarli vai Ma io ho paura di muovermi adesso Qualunque cosa facciamo Crash Sì Cioè troppo forti in Minecraft Non li regge sti poteri Ok Hanno inventato No Con dei poteri Troppo potenti Allora raga Io lo faccio per voi Lo faccio per voi La preghiera dei consolini Ok Ti prego mondo Permetteci di far vedere Questo video ai consolini Vogliamo far vedere Che incredibili poteri Abbiamo acquisito Ma se tu crashi Noi non possiamo più Far vedere i poteri Quindi non far succedere Quello che è già successo a Fede Facci avere un momento di gioia Dove utilizziamo l'armatura Più poteri E facciamo vedere grandi cose Tutti insieme Ti bevo la mia copertura Va bene? Grazie Vado Vai Steph Io mi rinfresco Però è bella È bella sta tuta Con sto potere Eh? È bella Figata Mi piace un bot Poi tu fai pure No Volevo fare questo E sei pure invisibile Stra bella Fa prendere anche verso l'alto C'è proprio una scelta Che si deve Vabbè Bellissima Praticamente Sì però Ho una domanda Un po' scomoda Come scendi? Come scendi a quel punto? Vedete io non posso cadere E se salto Vado più in alto Ok abbiamo capito Che Steph Flutterà per sempre Nei cieli di Minecraft Con la sua scia di ghiaccio Va bene Aspettate Aspettate Dunque dai Bello Che fai? Ma tu sei zitta Che mi guardi Che fai? E sei zitta tu? Stavo provando a scrivere Steph Però non ci riesco Un po' si capì No vero No per niente Quella è una S Questa è una T E questa è una E Ma dove le vedi? Ma dove le vedi? Beh basta Dannazione Dannazione Però sono dei miei poteri Io non avevo mai visto La possibilità di Folare Perché crei Qualsiasi passo Tu fai del ghiaccio No è carino Ha fatto bene È davvero bello Cioè guardate Cosa tutto ho creato Il problema è che non si può più scendere Però è bello Sì è un po' un problema È un problema abbastanza importante In ogni caso Ci fermiamo così Con Fere che non può Niente giocare più Non posso più tornare Ha avuto poteri troppo forti Rispetto ai miei Perché appunto Te l'ho detto Era più incredibile Sono più incredibile di te Si vede Guardate come gioca Vede Qua sotto comparirei altri video Iscriviti al canale Cliccate un campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao